Cazzo se non mi rompete l'accampamento ma perché mi rompete l'accampamento ma tutti mi stanno rompendo i coglioni dall'altro giorno Ciao a tutti squali e pesciolini sono Mamididi dell'Italia Sharks e vi do il benvenuto in questo settimo episodio di The Forest, The Forest è un gioco bellissimo, è un survival horror che potete trovare su Steam e a cui sto giocando da un po' ed è veramente veramente figo e possiamo anche definirlo sandbox non perché andiamo a scavare nel mondo ma perché comunque possiamo interagire col mondo e possiamo costruire quello che vogliamo infatti in questo episodio vi voglio mostrare il nuovo mio accampamento, l'accampamento che ho costruito in aria, sono dei ponti in aria ma prima di venire all'accampamento ragazzi alcune informazioni di servizio, se sei iscritto a questo canale ti chiedo gentilmente e ovviamente se vuoi essere informato ed aggiornato sui nuovi video, sulle uscite di questi video ti chiedo di andare vicino alla zona iscritti cioè dove sei iscritto e troverai una piccola rotellina o una campanella clicca sulla campanella e clicca lì in questo modo stai dicendo a youtube di mandarti il feed, di mandarti un avviso che quando esce un video insomma viene aggiornato in questo modo non te ne puoi perdere neanche uno e se ti fa piacere insomma guardare questi video è la cosa migliore che puoi fare. Detto questo come avete potuto notare per il momento farò uscire The Forest il sabato come da programma però lo alternerò quindi una settimana sì e una settimana no con Pokéland Legend perché è un gioco che mi sta piacendo e ho visto che anche a voi non dispiace tanto quindi può essere una valida alternativa ma ora veniamo a noi dopo le informazioni di servizio vorrei chiamare in causa il mio amico Mastro Bicari non so se segue questa serie anzi se segui... ehi perché mi sono scassato casa se segui questa serie scrivono nei commenti fammelo sapere perché potrei nominarti... non tanto per nominarti ma perché mi potresti essere utile anche qui come Mastro Costruttore ma lì c'è della gente che cammina? o sono io che ho le traveggole? sono io che ho le traveggole va benissimo detto questo come potete notare questa è per ora il mio accampamento in aria ragazzi è da espandere vi sto facendo vedere solo la zona base allora qui c'è una piattaforma come vedete sono vicinissimo all'aereo l'aereo in quella direzione di là è la grotta che siamo andati ad esplorare nello scorso video di là è l'altra mia casa in spiaggia quindi è un piccolo accampamento quadrato che per il momento è sufficiente ci servirà giusto... sono delle piccole mura di protezione ci abbiamo una casetta ma io non capisco chi cazzo è che fa rumore? è quella schifezza che tira i figli? o sono animali? non riesco a capire no sembra la schifezza che tira i figli ragazzi ma dove cazzo è? dove cazzo è? dove ti sei cacciata? avete sentito il poft? il poft? quello è il figlio che mi ha tirato addosso ma non è che ce l'ho nell'accampamento non credo ora mi giro e mi trovo quella schifezza che ce l'ho nell'accampamento mi auguro proprio di no però intanto avete notato che è molto semplice come diciamo accampamento ho una zona, una casa ho una zona di... come si chiama? dove posso guardare un po' quello che c'è qualcuno qui fuori si c'è qualcuno no ragazzi mi sto caccando in mano di brutto non riesco a capire dov'è si però io non posso andare in giro eccoli! no cazzo! tu che cazzo cazzo vuoi? tu che cazzo vuoi? dove è la mamma? no perché è venuta a trovarmi questa qui? vabbè che ho ammazzato parecchi caminibali ma perché sei venuta a trovarmi tu? perché? che ti ho fatto? questo coso è morto? ragazzi è qui fuori da qualche parte me l'ha sparato ok allora controlliamo che abbiamo Molotov a volontà abbiamo bombe le bombe non le so usare in molto abbiamo i candelotti dinamite e andiamo a trovare la mamma di sto figlio qui dove sei mamma? dove sei? vedi che c'era tuo figlio nel mio accampamento dove sei cacciata? fatti vedere perché quei figlioletti lì non è che escono così a gratis c'è la home che non mi fa vedere che cosa ho intorno eppure ragazzi cazzo c'ho c'ho delle piattaforme che mi fanno vedere tutto intorno ma la mamma non riesco proprio a vedere dove cazzo sei nascosta? quella baldracca quella brutta baldracca comunque sto notando che le valigie si rigenerano quindi essendo diciamo vicino all'aereo ho un rifornimento costante di tutto quello che può essere diciamo vestiti vitamine medicine queste cose qua e non è male come cosa non è per niente male oh cazzo sto morendo di fame toh magna un po' di sticosi magna 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 nell'altro tanto qua ne troviamo parecchi detto questo vi stavo spiegando un po' l'idea del mio accampamento fatemi sapere nei commenti se la provate se non la provate se volete fare modifiche allora come cazzo ci faccio una pallina di merda ho fatto una piccola capanna giusto per avere un inizio di appoggio dopodichè ho una piattaforma giusto di vedetta poi vorrei fare come avete notato ci sono due uscite ma c'è anche un ponte vicino al ponte quindi collegato con tutta una serie di ponti vorrei collegare un altro ponte ad una vera e propria casa quindi quelle case che possiamo mettere sulle sulle parafitte collegarle a quello e quindi fare tutto fondamentalmente su a gli amichetti miei ma ciao belli ma volete vedere io non ho più paura dei miei amichetti venite dai che ho da fare un falò su venite con me ciao oh eh 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 amichetto mio eh 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 aspettate devo trovare il momento giusto per attaccarli perché ora si stanno facendo eppla che cazzo vuoi cazzo vuoi oh eh eh sono due oh 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 mannaccia ti ho evitato che cazzo vuoi tu non fa eh 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 venite qua oh le prendete in due eh morto damogli un altro colpetto però erano in tre ragazzi li avete visti anche voi dov'è l'amichetto vabbè per il momento ci bastano questi quindi lì portiamo il nostro accampamento e facciamo i primi depositi quindi ho bisogno di un deposito per il cibo ho bisogno dei primi ehm depositi per l'acqua qua sotto però potrei fare un altro fire pit si 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 oppure posso fare proprio i fuochi quelli giganti da campo potrebbe essere utile per segnare il centro dell'accampamento ragazzi io sto pensando a queste cose ma voi fatemi sapere che che idee avete come come possiamo migliorarlo questo accampamento perché cioè voglio costruirlo insieme a voi non è una cosa che dove abiterò solo io cioè fisicamente ci abiterò solo io però ci sarete anche voi quindi ehm fatemi sapere ehm allora quindi vi stavo spiegando che ho intenzione di fare anche delle trappole per i conigli ma allora cominciamo col far qualcosa perché sennò non ci muoviamo più sicuramente abbiamo bisogno di una zona depositi quindi dobbiamo mettere depositi di cibo e depositi di ehm pietre e legna allora ehm altra cosa ho lasciato qua degli alberi ma ehm un'altra parte sono troppi quindi una parte la abbatto sicuro questo qui per esempio potrei abbatterlo lascio solo questo qua perché ho trovato una padella nelle negli scorsi episodi quindi voglio fare un trees up collector che sarebbe un colle una cosa che mi fa collezionare la resina allora quindi io pulisco tutto qua il sottosuolo brucio quei cadaveri accendo un fuoco e metto la mia padella per accogliere la resina ragazzi ma quello che cazzo ci fa lì quello che cazzo tu che cazzo scendi da lì immediatamente ti faccio scegliere a colpi ti massacro di botte se non scendi vieni qua ehi come cazzo come cazzo ci sei salito ma chi ti ha dato il permesso di venire a casa mia arrivo eh scendo scendo vengo vengo a trovarti eh ma dove cazzo scappi deficiente eh mi devi affrontare che cazzo c'hai sei un vucun pra ma oh eh chiama tua moglie mo sei morto come un ebet vai a cagare oh eh mi servono anche delle piume scusi uccellino grazie no prendi le piume prendi le piume prendi le piume ok prese eh che cazzo ci fai non tornare mai più e non chiamare i tuoi amici qua qui vicino perché sto facendo un falò di cannibali quindi grazie non mi rompete le palle comunque ragazzi mi sa che questi alberi sono da battere sono mi entrano i cannibali in casa ragazzi questo mi sembra un topo in gabbia dai corri verso ah non corri più verso la porta eh sei riuscito vabbè li ho fatti entrare io ragazzi perché stavano aspettando qui fuori tipo barboni ho detto no poverini mi dispiace insomma che state fuori tanto ora muori testa di cazzo dove corri vieni fuori da lì dovessi rompermi qualcosa nell'accampamento ti spacco la fa a proposito c'era un tuo dente da queste parti vabbè lo prendiamo dopo vieni qua tanto muori oh a posto oh la è a posto sei andato via anche tu eh si ragazzi ne ho ucciso giusto una quindicina giusto qualcuno eh e infatti sto depositando tutte le ossa che avevo giù e sto come avete potuto notare sto finendo di costruire qui ho due depositi per la legna grossa quindi per i tronchi però sono i depositi quelli grandi poi qui ho messo due depositi di stick che ovviamente sto in fase di costruzione quindi sono finiti cioè sono strapieni qui ho due depositi di rock anche questi però pieni di roba dove cazzo sei non mi rompete l'accampamento ma perché mi rompete l'accampamento ma tu ti mi stavi rompendo i coglioni dall'altro giorno tuo marito è morto una volta è mo no non t'azzardare non t'azzardare vieni qua vieni qua dove corri brutta baldrac vieni qua si ehi dove corri vieni qua perché prima mi vieni e poi te ne scappi eh testa di cazzo non ci sono più le baldrac di una ehi ehi eh no mi è scappato di nuovo ok ora è in trappola allora tu vieni da me vieni qui su ti devo rinchiudere in un angolo come faccio con i topi eh perché di solito faccio così con i topi ora sei in un angolo e mo che fai mi meni ma quanto sei brutta vado sei pure un po' decrepita ma ma respiri ancora ok beni no respira ancora ragazzi no ok è diventata cadavere bene e vabbè e purtroppo capita se sti cannibali mi entrano in casa poi sono costretto a dargli fuoco e sono cose che capitano ora ragazzi è così pieno di cannibali vabbè useremo una molotov cose che succedono anche nei migliori no no siete così uno sull'altro che non vi riesco neanche a portami eeeh voila fuoco di cannibali si signori venite signori si sente l'odore in tutta la contea qui abbiamo cannibali a volontà i migliori cannibali di tutto il mondo ebbene ragazzi eccoci qui all'alba di una nuova mattina il mio accampamento per il momento in questa fase è terminato vi faccio vedere tutto quello che ho costruito qui ci stanno un po' di carne sono andato pure a caccia vedete ci stanno alcuni conigli un po' di tartarughe la seccate qui ovviamente super vuoi non mi dire che sono tornati quei cazzi sono tornati i bambinetti ma che palle sono tornati i bambinetti ragazzi qui ci sono due basket pieni di ossa ma veramente tanti si in effetti ha senso perché cioè sta facendo stragi di sticosi quindi ha senso insomma che sia venuta la mamma dei bambinetti a dire oh la vuoi finire di ammazzare i nostri figlioletti lì ci sono ben tre ciotole per l'acqua teschi per no le teschi come si chiamano i gusci dell'acqua per accogliere dell'acqua e qui fuori però esco un po' attrezzato c'è una trappola per conigli eccola qua ci dovrebbero essere pure dei bambinetti di merda detto questo ah qui c'è un altro morto sei rimasto ancora qui i piglioletti ah ma sono due morti che stanno qui si ma tu sei morto da solo perché non ti ho ucciso io va bene detto questo ragazzi se ti è piaciuto questo video lascia un like commenti e condividi ma soprattutto se sei arrivato fino a questa parte del video scrivi nei commenti hashtag hashtag accampamento volante si hashtag accampamento volante dove cazzo stanno sti bambinetti di merda detto questo mi auguro che questa trappola riesca a catturare qualcosa perché secondo me è veramente pirra il coniglio che entra qui dentro in ogni caso ci vediamo nel prossimo video continua a seguirmi su questo canale e ricordati di mettere la campanellina per rimanere aggiornato sui nuovi video ciao a tutti ciao a tutti